E' bello quando qualcuno si prende cura di noi, con amore, con discrezione, senza porre condizioni, nei momenti difficili, nei momenti importanti, nella quotidianità. Quando ci prendiamo cura di noi stessi. Quando ci prendiamo cura di chi ci sta a cuore. Noi di Casal Grande Padana abbiamo scelto di prenderci cura di te, creando BIOS Antibacterial, le lastre ceramiche che riducono del 99,9% la carica batterica di pavimenti e rivestimenti. Da oltre 15 anni installiamo questo prodotto in tutto il mondo. Un progetto in continua evoluzione che ci ha permesso di sviluppare l'unico trattamento antibatterico conforme alle regolamentazioni europee, efficace anche in assenza di luce. Ora anche tu puoi prenderti cura di chi ti sta a cuore, scegliendo i materiali più sicuri per il suo benessere e la sua salute. Grazie a tutti.